Tutti i giorni in video news avremo una nuova trasmissione, una nuova rubrica, una rubrica che al venerdì sarà dedicata all'arte, alla cultura, allo spettacolo e la condurrà a Giuse Riva. Ecco, cosa farai Giuse Riva? Che cosa hai scelto per esempio per la prossima puntata di venerdì? Nella prima puntata parleremo di teatro, in modo particolare del filodrammatico di Treviglio che sta organizzando un'ottima stagione e che sta aprendo le porte anche dei gruppi amatoriali che meritano di essere conosciuti, dei gruppi di giovani che fanno delle cose molto belle. Parleremo di loro. Poi parleremo nella puntata invece successiva, un'anticipazione, invece di arte, di un restauro molto bello che si sta facendo attualmente nel comune di Treviglio, ma non diciamo troppo insomma. Ecco, già ti posso preannunciare che ero a Studio TV1, quindi in regia e ho ricevuto dalle telefonate che già chiedevano quando sarebbe stato trasmesso questo servizio su questo torretto, mi sembra, del comune di Treviglio. Un appunto per ricordarvi che non dovete telefonare a Studio TV1 per sapere quando andranno in onda le trasmissioni, ma a Videomedia 30 32 96, ma non solo per sapere quando andranno in onda le trasmissioni, ma anche per segnalare servizi che noi potremmo fare, che possono essere di arte, di cultura, di cronaca, di informazioni, inchieste. E quindi quando avete bisogno di noi, della nostra presenza, telefonate al 30 32 96.